Il bello stafato per me era tuo o mio? Non so se ci ero riuscito a dire Comunque mi piacerebbe tornare a questo Senza la guerra però Senza la guerra? Eh Ma tu sei stato in guerra? Ma tu sei pazzo Perché la guerra aveva 10 anni Ah 9 anni Tu pure Io mi ricordo una cosa che io avevo 16 anni E Mussolini decise che anche i 16 anni dovevano partire per il fronte o il giorno preciso che ho fatto a 16 anni è finita la guerra Quando eravamo piccoli io e Carlo voi l'ho chiamata Bud chiedo scusa No, no, io mi chiamo Carlo Io lo chiamo Carlo Tu mi chiami Luciano Allora io e Carlo eravamo ragazzini ma io avevo se ben ricordo un anno di più Sì E quindi all'inizio quando facevamo come tutti i ragazzi facevamo a botte vincevo io Poi purtroppo da un certo anno in poi ha cominciato a vincere lui E io oggi non lo tocco più Ma non lo so potremmo fare un film giallo dove lui farebbe la parte dell'ispettore e io quella del colpevole perché come faccia mi pare è